Stazione di giorno, zona franca di notte. Accade a Biceglie, il cui scalo ferroviario, con gli ambienti annessi, è preso di mira con frequenza sempre maggiore da giovani e giovanissimi, protagonisti di gesti vandalici che non possono più essere derubricati a pure bravate. L'ultimo in ordine di tempo si è verificato nella tarda serata di ieri, quando i gnoti hanno svuotato il contenuto di alcuni estintori all'interno del sottopasso pedonale, deturpando in modo evidente la pavimentazione e le pareti dello stesso. L'episodio segue un altro analogo avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, evidenti disagi per i passeggeri e i cittadini che fruiscono quotidianamente del sottopasso. Gli estintori utilizzati per l'atto vandalico potrebbero essere stati sottratti da alcuni palazzi adecenti alla stazione. In mattinata, all'opera per rimuovere le polveri antincendio, l'unico addetto della Fulgens, l'azienda appaltatrice per RFI relativamente ai servizi di pulizia e di igiene. Per ricostruire il fatto potrebbero rivelarsi fondamentali le immagini di videosorveglianza delle telecamere esterne dei carabinieri e di quelle interne appartenenti a rete ferroviaria italiana. Nelle scorse ore, inoltre, il sindaco Angel Antonio Angarano ha denunciato in prima persona altri episodi di inciviltà e di degrado, con particolare riferimento a quanto accaduto in piazza Don Milani, nel quartiere San Pietro, dove alcuni ragazzi hanno divelto la recinzione di un'area verde installata da poco, fatto immortalato da alcune telecamere. Un gesto inqualificabile contro la città e i cittadini che ci amareggia perché denota assenza di senso civico e di amore per Biceglie, ha rimarcato il primo cittadino. Abbiamo già riparato il danno e trasmesso gli atti alla polizia locale e ai carabinieri per tutte le indagini necessarie. Toleranza zero per chi danneggia il bene comune, ha concluso Angarano. A questi episodi si aggiungono infine i furti di alcune centinaia di metri di cavi elettrici, i più punti della città compiuti da ignoti malviventi per un peso complessivo di diverse centinaia di chili. A tal proposito, gli uomini della tenenza dei carabinieri di Biceglie stanno conducendo indagini e nell'ultimo periodo hanno sventato altri tre furti, uno dei quali grazie alla segnalazione di un cittadino.